Musica Oggi ospite nello studio della Watt TV di Come Dove abbiamo Isabella Grandis, presidente dell'associazione culturale Maschera di Ferro e Luigi Oddoero, regista della rievocazione storica. Una rievocazione storica che è giunta quest'anno alla sua 17esima edizione e che ha visto salire e interpretare i panni della Maschera di Ferro in questi 17 anni e all'inizio la prima edizione un noto avvocato di Pinarolo, Alberto Negro fino ad arrivare l'anno scorso con questa grande novità dove la Maschera di Ferro era una donna ed è stata Stefania Belmondo. Nuova edizione, nuovo titolo, l'ombra lunga del re sole, come mai? Ma innanzitutto perché quest'anno c'è il centesimo anniversario della morte del re sole quindi il re sole in quegli anni la Francia regnava su Pinarolo per cui un personaggio anche se non è mai venuto a Pinarolo è emblematico per cui l'ombra lunga perché lui non è mai venuto a Pinarolo però praticamente le sue mani, la sua ombra sono arrivate sulle città di Pinarolo in quanto fece portare a Pinarolo da Dardagnan dei moschitieri numerosi personaggi tra i quali questa famosa Maschera di Ferro. Quali sono le novità di quest'anno? Beh appunto innanzitutto abbiamo il re sole abbiamo il re sole che è interpretato da Luca Rossetto che fu uno dei finalisti dell'Isola dei Famosi quindi ha una grande opportunità, poi lo vediamo su tutti i quotidiani, i giornali, i manifesti per cui penso che quest'anno sia stata una cosa molto importante per lui essere al centro dell'attenzione abbiamo la regina madre, abbiamo un gruppo di nobili francesi che fanno così da contorno e di fatti abbiamo allestito anche un salotto del re sole. Una manifestazione che ogni anno attira a Pinarolo migliaia e migliaia di persone ma come fate a organizzarla? Immagino che i collaboratori e i volontari siano figure molto importanti. I collaboratori e tutti i volontari rigorosamente sono alla base della riuscita di ogni rilogazione se non ci fosse la collaborazione di tante persone che prestano il loro contributo appunto in modo tutto gratuito non penso che riusciremmo ad ottenere queste belle edizioni che abbiamo sempre fatto la collaborazione è la base ma la collaborazione non soltanto quella di chi appunto si mette in costume la cosa molto importante è la collaborazione di coloro che senza apparire dietro nelle fotografie o dietro i teleschemi danno un apporto importantissimo alla riuscita della rievocazione. Una manifestazione che per la sua ottima riuscita si lavora da un anno all'anno successivo. Qual è il programma per questa 17esima rievocazione che ha già visto comunque nelle scorse settimane alcune anticipazioni tipo la vostra presenza all'artigianato del Pinerolese e poi la cena in costume al San Secondo al Barrage. Sì, sono state due, anzi devo dire che abbiamo avuto ancora un'anticipazione molto importante al Salone del Libro di Torino dove noi pensavamo di essere così ospiti proprio solo in un certo punto invece poi ci hanno fatto girare per tutto il Salone con un bel numero di figuranti abbiamo portato anche la maschera di ferro e direi che lì abbiamo avuto un grande successo perché poi di lì siamo stati chiamati in altre città a portare i nostri figuranti. e poi quest'anno diciamo che la manifestazione inizia domani pomeriggio sperando sempre che il tempo ce lo permetta con i tamburini di Pignoro che faranno il bando per le strade di Pinerolo poi ci sarà anche un certo programma che sarà alle Due Valli perché le Due Valli è uno dei nostri sponsor principali in serata avremo già una bella manifestazione con la presenza di numerosi figuranti molte sono le attrazioni che ci saranno lungo il percorso specialmente in piazza San Donato, via Principi da Caia fino al Pozzo dove nelle vicinanze in via Castello ci sarà la cella che ospita la maschera di ferro Abbiamo parlato del coinvolgimento di tutti questi volontari e ci saranno anche degli studenti a darvi una mano? Sì, siamo veramente orgogliosi perché da anni gli studenti del liceo artistico Michele Boniva di Pinerolo ogni anno preparano dei capolavori che espongono nelle vetrine del centro storico e da alcuni anni nell'entrata del centro commerciale delle Due Valli Inoltre dall'anno scorso c'è anche la collaborazione da parte degli allievi dell'Engine di Villa Eperosa che lavorano manualmente nel senso che opera loro tutte le acconciature delle dame che partecipano appunto alla rivocazione e abbiamo avuto nel corso dell'anno il piacere di ospitare naturalmente abbiamo dovuto un po' rabattarci perché non abbiamo dei locali idonei ma ci siamo aggiustati abbiamo avuto, come dicevo, il piacere di ospitare i bambini della scuola materna di Abbadia e li abbiamo entretenuti sono rimasti veramente incantati da questa figura della maschera di ferro dai costumi e principalmente dai giochi storici per un paio d'ore ho notato che questi bambini hanno completamente dimenticato tutti gli attrezzi moderni come i videogiochi e tutte queste cose qui ed erano entusiasti di poter giocare come giocavano i bambini nell'epoca della maschera di ferro del fine seicento Andando a concludere questa nostra breve intervista quanti sono i figuranti, i gruppi e da dove arrivano quest'anno? Diciamo che la maggior parte sono di Pinerolo perché noi abbiamo sempre fatto in modo che i gruppi di Pinerolo le associazioni facessero parte della nostra manifestazione questo è il nostro intento dal primo anno in cui abbiamo iniziato la nostra rivocazione tant'è che i tamburini di Pinerolo e il gruppo coreografico Pinerolese diretto da Roberta Bozzala sono da sempre con noi tanto per citarne due i più importanti e poi abbiamo dei gruppi che arrivano da Revello, da Asti, da Sanremo e da Torino sono anche parecchi i gruppi che arrivano i figuranti più o meno come sempre sono intorno al migliaio perché poi tra il sabato e la domenica specialmente dal pomeriggio sono diversi gruppi che chiedono di partecipare alle nostre rivocazioni più che altro sono gruppi di nobili perché sono quelli a cui piace più esibirsi però noi dobbiamo mai dimenticare che abbiamo un gruppo di popolani che sono veramente favolosi anche perché in quanto i popolani erano il perno nel 1600 i nobili veramente ce ne erano pochissimi poi abbiamo anche qualche gruppo militare ma sono veramente pochi perché in questo periodo sì c'erano dei militari ma guerre qui, sparatorie non ce ne erano Quali sono le indiscrezioni su chi vestirà i panni della maschera di ferro? Anche quest'anno è un personaggio famoso direi famosissimo e torniamo ai giovani quest'anno è un giovane, un giovane su 40 anni quindi per me è giovane ed è un personaggio molto conosciuto perché ha fatto praticamente da presentatore un'importante chiamiamolo così trasmissione televisiva è stato ha fatto moltissimi telefilm cinema ed è una persona bello fuori ve l'ha detto Per scoprire quindi il personaggio misterioso che veste i panni della maschera di ferro quest'anno bisognerà aspettare domenica alle 18 sul palco allestito in Piazza Fontana da domani pomeriggio invece comincerà ufficialmente la 17esima rievocazione storica e intanto ricordiamo che sono in vendita i biglietti della lotteria della maschera di ferro che poi potranno essere anche utilizzati con un buono sconto all'Ipercop di Pinarolo vi ringraziamo per essere stati ospiti qua da noi grazie a voi grazie